Presidente Moroni, Presidente Moroni, lei ricopre questo luogo per volontà del Consiglio Comunale. Le volevo ricordare che secondo me non le dita questo luogo che le ricopre, in quanto si è reso complice nella passata studiuta del Consiglio di un atto infamante nevo. Se serve ricordo l'articolo, il comma 2 dell'articolo 24 dello Statuto del Comune, che recita che il Presidente tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle costruzioni, segue i cori e il lavoro delle costruzioni, e assicura ad essere gli strumenti per l'efficacia di funzione. Allora, tutela le prerogative dei consiglieri. Lei non ha esitato un attimo a scutarmi per tutt'altro. Qui è una cosa gravissima. Io naturalmente l'altro giorno ho voluto abbandonare l'Ala perché ero turbato, poiché lei mi ha chiamato nel suo ufficio, mi ha detto che la cosa si conclude qua, mi permette. E come per il studio è successo nulla? Poi la sera ha fatto distribuire la lettera anonima, che secondo me è una lettera anonima ma solo cesti in alta. Perché io voglio sapere se la lettera fosse stata interessata a lei. E cosa avessi avuto questa velocità? E questo metodo deve essere garante dei consiglieri comunali, deve essere garante, lo capisci cosa vuol dire garante? Certo, deve essere garante perché non ha fatto assolutamente, non ha svolto assolutamente il suo ruolo. E per questo deve essere di dimettere, ma subito si dimetta, perché non è degno il tipo di a questo ruolo. Non si permette di usare questo ruolo? Io mi permette, mi permette, mi permette, certo che mi permette, mi deve spiegare perché ha distribuito quella lettera. La poteva recapitare nella passata delle poste che ha detto, nella sede del faccio un pubblico. Questa fretta di fare 30 lettere, scrivere i nomi di tutti i consiglieri e distribuirla per scuttanare. Complimenti. 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 Io spero che le succeda a questo anche a lì, così poi vediamo se si sente piperato. Quindi, signor Presidente, la invito di me adesso, per aver violato questo assunto, perché non è degno di ricoprire questa carica. E poi, ne parleremo in altro modo questa cosa, perché non finisce qua. Anche in altra serie, guarda. Non si preguita. Assolutamente. E lei che ha commesso reato, non io. E ha ragione. E lei che ha commesso reato. E consigliere Sal, prego. Allora, iniziamo con le risposte alle mie domande. Consigliere Gabbia, la lettera di cui lei parla è arrivata al protocollo in 45 coppie, intestate a tutti i consiglieri comunali. Così come è stata consegnata, consigliere è stata consegnata anche questa. La metteva nella busta delle lette. Vabbè, se ne vedi, ma avremmo una scelta. Si dimetta che fa il giudice. Ha ragione, ha ragione. Si dimetta. Fa più bella figura. Non risponda a cose che non ci crede nessuna questa cosa. Ma è un'interessa se le ci crede. Non è proprio come diceva. La metteva nella busta delle lette, come ha fatto con gli altri. Non è stata consegnata, non è stata consegnata, non è stata consegnata. Lei è un miserato. 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 Sto aspettando questo. E si perdono. Io mi perdono. Stiamo a vedere se lo raggiungiamo. E' un miserato. O al E' un miserato. Grazie.